benvenuti a credit matter tv standard impulse ha recentemente pubblicato l'outlook sul cover bond market per il 2014 qui con me oggi c'è roberto pacciotti analytical manager per i cover bond qui con noi oggi per discutere il contenuto del report ciao roberto roberto se analizziamo il 2013 vediamo che la maggior parte dei cambiamenti di rating sui cover bond in qualche modo legata al cambiamento sui rating dei sovrani considerando che recentemente la pressione sui sovrani è andata un po diminuendo ritieni che gli investitori di cover bond possano ignorare il rischio paese per quest'anno sì questo è corretto quello che noi riceviamo anche dai nostri colleghi di sovrani e che la pressione sui sovrani effettivamente nel 2014 sarà molto diminuita rispetto al 2013 pertanto non ci aspettiamo che ci siano delle azioni di rating sui cover bond determinate appunto da un cambiamento di rating sui sovrani tuttavia noi abbiamo recentemente pubblicato request for comment sul rating above the sovereign che qualora venisse adottato nella proposta attuale comporterebbe delle azioni di rating sui cover bond che di nuovo non sarebbero guidate da un cambiamento di rating sul sovrano né da un cambiamento di rating sull'emittente come conseguenza ma piuttosto appunto da un cambiamento di criterio l'over collateralization è un fattore determinante nell'analisi di rating di un cover bond ti aspetti delle grosse variazioni nei livelli di over collateralization nei cover bond durante il 2014? direi di sì questo è un trend che già iniziato nel 2013 infatti i livelli di over collateralization sono un elemento fondamentale nell'ottenimento del rating di un cover bond in quanto questo supporto di collateral consente di mitigare il rischio di assailability maturity mismatch chiaramente l'element risk può essere anche particolarmente importante quindi condurre a dei livelli di over call particolarmente importanti l'over call evidentemente ha un costo pertanto gli emittenti cercando di ridurre questo costo cercano di ridurre anche l'element rischio che ne è la causa o in alcuni casi addirittura di eliminarlo in particolare quello che abbiamo visto nel 2013 è che alcuni emittenti hanno riacquistato delle serie di cover bond messe per poi cancellarle e quindi ridurre il rischio di LMM ovvero hanno introdotto una nuova feature nell'ambito dei programmi di cover bond che è il cosiddetto conditional pass through che diciamo al verificarsi di determinati trigger effettivamente elimina completamente il rischio di mismatch e conseguentemente comporta anche una riduzione molto importante dei livelli di over call ci aspettiamo che questo continui anche nel 2014 Roberto menzionato il conditional pass through cover bond che è stata una novità per il 2013 assieme anche a cover bond backed by SME ti aspetti che per il 2014 ci possono essere delle altre innovazioni per quanto riguarda il cover bond market innovazioni nel 2014 verranno probabilmente dall'introduzione di nuovi collateral types nell'ambito dei programmi di cover bond in modo particolare per esempio qui in Italia abbiamo una proposta di modifica della legge 130 nell'ambito appunto in cui applica i cover bond che prevede la possibilità di avere tra gli altri anche i finanziamenti a piccole e medie imprese come collaterale per i cover bond considerando l'importanza che questo tipo di asset ha nell'ambito diciamo economico europeo ci aspettiamo che anche altri paesi effettivamente seguano lo stesso esempio iniziato dall'Italia analogamente ci aspettiamo anche altre asset types però considerando appunto la maggiore rischiosità di asset non tradizionali e considerando che questo comporta una minore liquidità del sottostante e quindi un incremento dei livelli di over call allora ci aspettiamo che insieme alle nuove asset classes probabilmente ci sarà anche la conditional pass through feature proprio perché per quanto dicevo prima permette di ridurre i livelli di over call qualche altro particolare trend che un investitore cover bond deve considerare per il 2014 in aggiunta a quanto detto io direi che ci sono degli sviluppi normativi che possono avere un impatto sui cover bond e che pertanto gli investitori ma così come le agenzie di rating dovranno monitorare in modo abbastanza attento mi riferisco in particolare alla BRRD directive quindi alla banca resolution recovery directive che introduce un diverso trattamento per i cover bond nel caso di un emittente in default oltre che debba essere ristrutturato il cover bond verrà trattato in modo privilegiato rispetto a un senior unsecured e questo chiaramente potrebbe anche avere un impatto sul rating noi stiamo monitorando evidentemente questa proposta per cercare di capire che impatto potrà avere in aggiunta a questo abbiamo anche altri sviluppi normativi in modo particolare lo European market infrastructure regulation oppure il green paper della commissione europea per l'armonizzazione delle leggi di cover bond sui vari paesi europei tuttavia riteniamo che l'impatto di queste ultime due non sarà nel 2014 come invece per la BRRD directive ma più verso il medio lungo termine chiaramente gli investitori ma come noi stessi dovranno continuare a monitorare i rischi di credito dei cover bond per verificare come l'eventuale variazione degli stessi possa comportare delle variazioni nei rating a questo proposito noi potremmo consigliare agli investitori di familiarizzare con il nostro report che pubblichiamo ogni tre mesi che è il Global Cover Bond Characteristics che offre una panoramica molto dettagliata sui vari componenti di credito e cash flow dei cover bond e conseguentemente sulle implicazioni che queste componenti possono avere sul rating dei cover bond questa è una pubblicazione che noi facciamo per tutti i cover bond a cui assegniamo un rating grazie Roberto grazie Barbara l'articolo completo è disponibile sul sito di Standard & Coors grazie mille per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti 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 Grazie a tutti.